vale la pena forse di ricordare che la parola prometseus non è greca però i greci la traducono come se fosse promazes questa particella pro che vuol dire l'anticipazione è costantemente presente nell'inno a zeus ma allora prometeo che allora da questo punto di vista lo possiamo intendere come il vero cantore dell'inno e questo è chiaro che sottintende un senso del prometeico del tutto diverso da quello che comunemente viene accettato e allora il prometeo è colui che sa gettare con verità dall'animo il dolore perché ecco questo perché ancora non l'abbiamo visto e lo possiamo accostare risentendo la traduzione che avevo proposto zeus chiunque gli sia a lui mi rivolgo con questo nome se gli è caro esser chiamato così e lasciamo da parte i problemi determinati da questo avvio se il dolore che getta nella follia deve essere cacciato dall'animo con verità allora soppesando tutte le cose con un sapere che sta e non si lascia smentire non posso pensare che a zeus e chi fosse deluso da questa risposta perché la risposta dice il rimedio è zeus in quanto collocantesi all'interno del sapere che sta allora il concetto di sapere che sta non è certamente deludente ma che il salvatore nelle supplici eschilo parla di zeus come topan mecari il sommo rimedio ecco ma che il salvatore sia zeus può sembrare deludente per chi collega la parola zeus al significato religioso mitico che essa possiede nella cultura greca però noi abbiamo un formidabile frammento dell'elia di eschilo dove si dice il frammento 70 dove si dice zeus e lettere zeus e la terra zeus e l'aria zeus e l'acqua zeus e tutte le cose coti tonde iperteron e ciò che sta al di là di tutte le cose per chi è assetato di filosoficità del linguaggio questi questi due versi di eschilo sono a livello poniamo di quell'unico frammento di anassimandro che possediamo ma non temono confronto con la filosoficità diciamo tra virgolette del linguaggio di parmenide o di o di empedocle diciamolo tra parentesi i grandi della tradizione della modernità si sono si sono lasciati suggestionare dal fatto che il tragico mette in scena l'evento ma il fatto di metterlo in scena e quindi aristotele dice come platone che la tragedia è e imitazione non ha niente a che vedere per esempio con questo discorso che abbiamo accostato dell'ino a zeus dove il riferimento è al dolore reale dell'uomo e non all'imitazione del dolore reale dell'uomo zeus non è dunque una figura mitica ma è colui che è l'identità di tutte le differenze l'aria l'acqua il cielo l'etere e poi anche tutto ciò che sta al di là delle differenze siamo nel clima di eraclito di parmenide non dimentichiamo che parmenide eracliti e eraclito scrivono e pensano forse un decennio forse un ventennio prima di eschilo e poi sono ubicati sono abbastanza lontani di modo che gli si può considerare i contemporanei quindi è che non è tanto il pensatore il poeta che suggestionato dalla filosofia ripropone in versi un discorso filosofico è un cooperatore dell'inizio della filosofia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti